Ciao a tutti. Mi chiamo Roberto. Lavoro per il gruppo Ferrovie dello Stato italiane. La mia mansione è quella di informare la gentile clientela, gli arrivi dei treni nelle stazioni in tutta Italia. Il treno impossessato, 666, di Trenitalia, proveniente da Sestri Levante, è diretto ad Albenga, delle ore 10.45, è in arrivo al binario 8. Ferma a Paradiso, Purgatorio e Casa Tua. Il treno Regio Express, 25189, di Trenord, proveniente da Milano Centrale, è diretto a Sticazzi, è in arrivo al binario 589. Il dipendente Sharkboy 84, è rimasto schiacciato nel treno Freccia Rossa a alta velocità sul parabrezza per un'inchiodata del treno che andava a 300 km orari. Ci scusiamo per il disagio. Il treno spaziale, 5589, di Trenitalia, proveniente da pianeta Terra, è diretto a Marte, è stato dato disperso nelle zone di Giove per colpa di un attentato ai binari stellari. Star Trek si scusa del disagio. Il treno Freccia Merda, 9988, di Trenitalia, proveniente da Il Valley, è diretto nel 1885, è stato distrutto causa un viaggio nel futuro. I passeggeri sono rimasti scioccati nel vedere Dario Argento. Trenitalia si scusa per il disagio. Attenzione! Dal 2013 ci saranno nuove importantissime novità. Trenitalia infatti, lancerà una nuova promozione. Cagliamo in faccia al controllore. Chi riuscirà a cagare in faccia al controllore, vincerà un biglietto della durata di 365 giorni, 24 ore su 24 e per tutto il territorio nazionale. Il treno della pura immaginazione, di Tressonno, proveniente da nessuna parte, è diretto a chissà dove, non arriverà per niente. Brutto coglione, era un sogno. Non arriverà nessun treno nemmeno nella realtà. Attenzione! Il treno Intercity, di Trenitalia, partirà con 50 minuti di ritardo, perché il macchinista si è cagato sotto. Ci scusiamo per il disagio. Il treno del sole, è stato soppresso perché è nuvoloso. Mark 123 abbonati a Mediaset Premium. Silvio ti regalerà un abbonamento annuale per Trenitalia. Il treno infestato, di Trenitalia, proveniente da Pulcilandia, è diretto a Tanna dei Topi, e in arrivo al binario 2. Attenzione! Salire con cautela sul treno. È severamente vietato salire e scendere dal treno quando non è ancora fermo. Questo è l'avviso più cretino che potessero mai creare. Le porte del treno non si aprono fino a quando quest'ultimo non si è del tutto fermato. Il treno 1, 2, 3 stella, dovrà tornare indietro di due stazioni perché l'ho visto muoversi. Trenitalia informa non rincorrere mai un treno. Ne arriverà un altro. Con 50 minuti di ritardo. Problema di matematica. Una cassa di angurie pesa 55 kg. La cassa vuota pesa 3 kg. Quanto pesano le solo angurie? Sonic ha 7 smeraldi del caos e gli servono per fare il caos control. Quanti smeraldi gli mancano? Puoi scegliere il dato mancante tra queste tre opzioni. Opzione 1. Sonic ha 7 smeraldi. Opzione 2. A Sonic servono 100 smeraldi. Opzione 3. Cuncle sal mega smeraldo del caos. Grazie per aver partecipato a chi vuole essere ferroviere. Attenzione. Dalla tu cuerpo allegria macarena. Que tu cuerpo espadarle allegria cosa buena. Dalla tu cuerpo allegria macarena. Ehi macarena. Trenitalia vi augura buon ferragosto. Andate a fanculo.